Il Radial Rewind Electric Winch è il prodotto più alto sviluppato da Arken per aiutare ai suoi avanti con soluzioni semplici. Ora, per la prima volta, i suoi avanti possono portare i suoi avanti semplici in due direzioni senza prendere la linea da S.E.F. Rewind Winch può lavorare come una velocità di 2 elettrica standard, con il primo veloce e il secondo potente. Ma, per cambiare il nodo rosso, puoi riuscire nella funzione di Rewind. Ora, con i suoi avanti elettrici, puoi portare la linea e semplicemente toccare la linea. Rewind Winch può affrontare le performanze di 35 a 48 per la jib, la main sheet e l'alliard.